Ciao, hai un'idea brillante e vuoi metterla alla prova? Sono aperte alle candidature a Innovitz Gymnasium, un percorso di accelerazione che darà forma alla tua idea. Ad ogni idea sarà affiancato un mentor dedicato che seguirà i progressi del progetto. Ad ogni start-upper sarà affiancato un personal coach che lo affiancherà lungo tutto il percorso di Innovitz Gymnasium. Una gorà composta da 60 associati Innovitz, professionisti provenienti dai più svariati settori industriali che metteranno a disposizione e in gioco le proprie competenze durante le sessioni del Gymnasium allo scopo di favorire lo sviluppo di tutti i progetti selezionati. Il percorso di accelerazione Innovitz Gymnasium inizierà a gennaio 2017 e terminereà la maggior parte di sessioni ogni due settimane. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 12 ottobre. Innovitz, Innovation for Passion.